la distanza del miglio. Non corre Demetrio MC, sono in 12 al via. In prima fila Dory De Moon, Donald L.P., Domino degli Dei, Dominatrice Fass, Donadoni F, Dracomar Diana Bai Bai. Seconda fila per Dante ZS, Dream of Derby Par, Di Bala, ZS, FZ, Demetrio P e Dixi Spava. Un po' lanciato l'uno Dory De Moon, parte in terza fila Dante ZS, un pochino insofferente. Partiti con Donald L.P., che cerca di contenere Dominatrice Fass, la rottura di Dracomar. Posizioni che si delineano con il Sauro di Domenico Luongo al comando. Nei confronti di Dominatrice Fass a largo interviene Donadoni F, poi Dante FZS, che ha un po' faticato a liberarsi dallo steccato. 29 e mezzo, il quarto iniziale, corre davanti Donal dell'E.P., si avvicina la testa Donadoni F, va a coprire l'avversario, 600 in 44 e 3, la risalita di Dream of Derby Par che si trascina Dante ZS. I cavalli stanno per raggiungere metà gara, ultimata in 59 e mezzo, si viaggia sul piede dell'1.14 e spiccioli, ritmo sollecito di Donadoni, che ha ottenuto strada sulla seconda curva da Donal dell'E.P. Dream of Derby si avvicina, trascinandosi Dante ZS, 14.3 il chilometro. Dream of Derby Par prende di mira Donadoni che risponde, metro su metro, ai tentativi dell'avversario. Tre quarti di miglio in 1.28 e 8, 14.4 dai 1.000 e 1.00 e 2. Richiesto Dante ZS, ingresso in retta d'arrivo, Donadoni allunga, sgabbia Donal dell'E.P., prova l'aggancio a Donadoni che però si distende. Donadoni F va a vincere alla grande su Donal dell'E.P., Dream of Derby Par e quarto posto per Domino degli Dei. media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1.14 e 2 per il gran bel successo di Donadoni F che riscatta la rottura dell'ultima uscita. Il figlio di Village Mystic e Sinfoni F è stato interpretato al meglio da Crescenzo Maione per il training di Vincenzo Castiglia e i colori del signor Raffaele Cirelli. Il figlio di Vincenzo Castiglia e i colori del signor Raffaele Cirelli.